In questa registrazione vedremo come si cerca un ebook. Due raccomandazioni, essersi autenticati e se si lavora fuori dalla rete di Ateneo, aver installato la VPN. Per cercare un ebook sposto il mio target da tutte le risorse a libri e riviste. In questo esempio io voglio cercare Robotics and Automation in the Food Industry. OneSearch mi presenta il risultato, vedo che è un ebook dal formato del libro, cliccando su accesso online vengo portata nella pagina in cui ho visibili le note pubbliche, cioè che la risorsa è accessibile dalla rete di Ateneo Unisì e l'accesso è garantito da Elsevier Science Direct Books Complete. Cliccando qui vengo portata nella pagina dell'editore. In questa pagina io posso vedere il sommario del libro, un riassunto del contenuto del libro e posso scaricare il pdf o da qui o da questa parte, download pdf. Grazie a tutti!